Non sono volate, non è questo, ma è questo che ho fatto. Ecco, è così, non è così, non va giù questo, ma Allora voglio, devi forti. Ci troppo in incluso oltre? Si, ma se si sente la perdizione, non si sente la perdizione aiutare?! Ma qui, quando la parte paura, 보isse la posizione qua. ecco, e va 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 quando arriviamo alla parte finale ecco la, prima nenu, forse ha diritto quando, hop, quando stico qua, ogni di me finisce il diritto, hop, quindi ho questo su rooms dietro, e dietro lo stesso due armi, avanti dietro, questo appena 1, vedo qui Anche qui cosa succede? Quando io lo vengo a unione, vedete che puoi bloccare? Blocca! No! Blocca! Non è che mi lascia farlo! Se la chiesa, lo tendete a fare così? Oh! No! Come ho fatto vedere i miei, no? Ero l'attentante a tenermi incominciare! Un braccio! Un braccio sotto! Allora, vediamo! La benedizione per gli altri che non c'erano dietro! Allora, cosa significa il gombo? Potete vedere le mani? Sì? Un'altra! 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 Così! Allora, qui, se non usi il sanzuccino, Mi posso stirare sopra! Non ci si riesce! No? Non posso uscire! Non mi tiro sopra! Non posso uscire! Allora! Non tengo, no? Ok! Però se non usi il sanzuccino... Eccolo! 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 la una passa l'altra, da sotto così direi, no? ecco, lui è da questa prima parte Marco, anche l'altra parte così, allora da qui, tieni se da qui è ovvio che si usa il peso molto, o là mi tengo, no? giusto? in questo senso i chansucini, ma se faccio i chansucini diventa una cosa di più la gente che fa vai più chansucini più chansucini esatto e apri ecco è quello che vi dico di qua non faccio così non faccio così davanti al percento dei muscoli sono lo stesso senti il braccio il mio braccio è completamente rialzato però non è il braccio che lavora è tutto sono dall'interno all'esterno il lavoro solo all'esterno guardate se faccio lavorare solo i muscoli in chansucini attenzione solo i muscoli in chansucini sono i muscoli senza e diciamo la discesa interna diventa una cosa di questo genere questo uno, due, tre però basta finito, non ce la faccio più vedi che un po' si duriscono vedi che mi tieni questi sono solo i muscoli che cercano di fare chansucini però soltanto non guidato da una corda dall'interno dall'interno chansucini all'interno anche se siete piazzato lui come prima adesso comincia a farlo dall'interno allora deve essere questo genere un po' di meno ma anche come si sente dentro eh senti come si muove dentro però solo chansucini esterno no? questo chansucini esterno questo chansucini esterno questo chansucini esterno questo chansucini esterno però sentite che dopo un po' se continua a tirare si chiudono no? i muscoli sono tesi si? intrecciati chansucini però tesi lavoro invece attenzione a questo punto non riesco ad andare tu attenzione rilasso apro l'interno sempre come si apre apro l'interno e adesso qua quella prima fase che era finita se uso solo d'accordo? se uso solo l'interno 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 è questo allora vado e e e chansucini esterno chansucini muscolare finito per aiutarmi adesso invece rilasso stranamente per sentire il rilasso e adesso lavoro l'interno e infine chi infrastructure non ma 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 Grazie.